Nei giorni scorsi si è svolta la tradizionale cerimonia del passaggio della campana del Leo Club Grigiantoste che ha visto subentrare a Giuseppe Castelli Salvatore Malluzzo, quale nuovo presidente per l'anno sociale 2021-2022. Malluzzo, attuale consigliere comunale a Palma di Montecchiare, la Roando in giurisprudenza, da sempre vicino alle tematiche sociali al volontariato. Il presidente oscente Giuseppe Castelli ha elencato le iniziative portate avanti durante la sua presidenza ed ha ringraziato tutti i soci e il direttivo per la collaborazione anche e soprattutto durante il difficile periodo di pandemia da Covid-19, augurando buon lavoro al nuovo presidente. Sono orgoglioso ed onorato di iniziare questa nuova avventura come nuovo presidente, ha detto Malluzzo, un compito che cercherò di onorare con responsabilità, impegno e disciplina. La comunità grigiantina ha bisogno del nostro impegno e il mio motto, riprendo una frase di padre Pino Puglisi che recita, se ognuno di noi fa qualcosa insieme si può fare molto. Ha presentato poi il nuovo direttivo durante la cerimonia, composto da Marta Castelli, vicepresidente, da Gianni Niccolò Panarisi, segretario, tesoriere Eliseo Maria Giorgio, cerimoniere Roberta Bruccoleri, consigliere del presidente Entoni Dalli Cardile e consigliere del presidente Francesco Bonfiglio. Paolo D'Amato e Francesco Bonfiglio sono i due nuovi soci, giovanissimi, professionisti della provincia di Agrigento. Con il nuovo anno sociale del Leoclub e Agrigento sono fissati numerosi obiettivi, propositi e tanta tanta determinazione.